Poi è il 28 siena ragazzi Di quanti affari nel culo che io porto via 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 No Ghiaccio Ragazzi, ovi raccogli di parla da coesicola? Dico bene o dico giusto? O dico meglio? Quante botte che ti stanno Ammazzalo Ammazzalo Io punto 5 euro su quello di destra No, stai ferma Sara, ma dai, pianta una lì. Perché? Sì, almeno si separano, come al bar, cioè due si picchiano al bar, voi non fate niente di farlo. Certo, perché facciamo te scommessi. Quello che ha fatto, quello lì, guarda come stai rivellato. Mi sto dando veramente una capottata di botte. Ma che devo separare io? Mi farei cazzo di me, perché secondo me ti suonano, ti qualificano e ti riempio di chiare. No, tanto se gli dai un calcio, volano più in là e si picchiano là, cioè... Ma dai, mi basta, come agli umani, io c'è pari. No, è che no, se vanno troppo lontani poi non li riesco a vedere. No, dai Sara, ma che palle, vieni. Ti levi? Dagli un calcio. Levati. Mi c'è una locca? Dagli un calcio, dagli un calcio. Mi cassa. Dagli un calcio, dagli un calcio. Dalli le pesce. Dalli le pesce, dagli le pesce. Ammettiamo che quella lo ha tagliata. Sì, ma anche se è coppia, no? Prima sono vestiti... No, perché quando vestiti stanno hanno delle bo... Eh, vabbè, ma ti devi levare, però... Se abbiamo tattimo uno schiedino, allora niente, continuiamo a schiacciare. Mia mia mia, ha beccato una faccia benissimo, ma guarda che roba! No, non ho chiesto... Levati, leva un po' la testa... No, levati tu! Bravo, grande, grande! Incredibile! Vuoi tirare un rigore! Sì! E' la papera che guarda in piedi dietro? Sì, la papera! Non riesce a guardare in piedi dietro! Sì, cattolini! Sì, cattolini! Ma vanno avanti proprio in pertelli, eh! Sì, cattolini! Però fa molto più rumore! Il piccione è un animale territoriale! Mi piaceva di andare a prendargli un caccio nel culo! Che distretto lavora, secondo te! Sì! 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 Sì!